In corso ad Atri, fino al 3 settembre, il progetto Steal of Peace, dedicato a Italia e Cina, in programma tre mostre, tra cui Impromptum di Yang Chang, una rassegna di cinema cinese, appuntamenti con la lirica e un evento targato UNESCO, in servizio di Mishka Ruggeri. Torna ad Atri, fino al 3 settembre, il progetto Steal of Peace and Everyday Life, la cui quarta edizione è dedicata quest'anno a Italia e Cina, una ricerca del senso del contemporaneo. In programma tre mostre, una rassegna di cinema cinese in lingua originale, un evento UNESCO e due appuntamenti con la lirica e le nozze di Figaro. In primo piano la mostra Impromptu di Yang Chang alle scuderie ducalli di Palazzo Acquaviva. Nelle sue opere di grandi dimensioni, su tela o carta di riso, Chang mescola Oriente e Occidente, le tradizionali tecniche calligrafiche con una nuova dimensione gestuale. Così ci presenta la mostra Site Specific, il curatore Paolo De Grandis. Un percorso che sto portando avanti di questo artista, iniziato quattro anni fa alla Biennale di Venezia, dove ha portato Taiwan, di seguito ha esposto a Open, l'Esposizione Internazionale di Sculture e Installazioni, e poi al Museo Macro, dove appunto di nuovo ha fatto questo suo lavoro. Diciamo che una delle sue peculiarità è quella di realizzare nel luogo, e grazie al luogo dove si trova, l'opera, appunto, questo gioco di scritture. Sono delle sue impronte. Un omaggio a Chiang Kai-shek e alla sua fuga a Taiwan con il tesoro artistico della Cina. Nelle sale delle scuderie ducali, anche i ritratti, pensati come dipinti, della serie Disumanity di Matteo Basile. L'atmosfera è cupo e barocca, capace di evocare il non detto e il non visto della violenza subita dai protagonisti rappresentati. Al Museo Capitolare, infine, è di scena la cultura Dongba del popolo Naxi, circa 250.000 persone che vivono lungo lo Yonsei ai piedi del Tibet. Pagine di papiro manoscritte, l'arte sacra con i vari oggetti rituali e la rappresentazione di divinità su tavolette, con la riformulazione pittolica dell'antica scrittura pittografica opera di Zan Chung-he.